Ora, con questo preate si può dire, con questo saggiardote, avevamo trovato un'unificazione fra noi, tra cui si poteva andare a chiesa felici, ma anche queste quattro mura non erano solo quattro mura veramente, ma sono diventate degli spazi dove le persone hanno vissuto insieme, sia anziani che giovani. Volevo mettere in risalto l'operato di Don Rocco che ha fatto in questo anno che è stato qua con noi, maggiormente per l'oratorio perché è stato il primo prete che hanno mandato qui a Caologna a far divertire i ragazzi e soprattutto quando venivano qua in oratorio, noi genitori eravamo molto tranquilli perché sapevamo che i bambini erano in mano a lui. Volevo aggiungere che è il primo anno che c'è stato in questo Paese delle attività che ha fatto Don Rocco per i bambini, soprattutto il Grest, come l'attività oratoriale che prima d'ora non c'è mai stata. C'è molto fermento, c'è molta sofferenza nella nostra comunità perché questa partenza di Don Rocco viene recepita come un taglio di un germoglio, di un germoglio di un qualcosa che stava nascendo. Però questa sofferenza, questa manifestazione di affetto verso Don Rocco non deve essere scambiata per morbosità. Sempre nel concetto di libera Chiesa in libero Stato questa comunità saprà affrontare il post Don Rocco e avrà la capacità di apprezzare pure chi sarà il suo successore. Siamo stati appena accolti di Don Rocco, ci ha fatto una festa meravigliosa per tutti gli anziani, per tutte le vedove, per tutti, anche per le altre persone. E siamo rimaste come percorelle smarrite ci ha lasciati. Speriamo che si potrebbe fare qualcosa, me lo auguro, per tutti noi e per tutti i bambini che ancora dovranno avere un mondo di fronte a loro, una bellezza che stava nascendo anche per loro. Speriamo che Don Rocco, dove va, fa il suo cammino spirituale come gli auguriamo il nostro cuore. Ho fatto parte della delegazione che è stata mandata dalla comunità, da Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Oliva, perché chiedesse di non spostare Don Rocco e per manifestare il disagio che tutta la comunità di Caolonia, anziani, bambini, adolescenti, donne e uomini nella maturità, avevano subito nel momento in cui avevano appreso la notizia dell'imminente trasferimento di Don Rocco, del quale non se ne parlava proprio fino a quel giorno. Insomma, è difficile trovare un parro, un sacerdote che sia così giovane e che però sappia comprendere le intere esigenze di tutta una comunità. Mi chiamo Giovanna, sono una mamma di tre bambini. Noi tutti i giorni ci chiediamo come mai fosse successo tutto questo per la nostra comunità, in quanto aveva intrapreso un percorso molto bello con i nostri figli. A nome di tutte le mamme, chiedo a Sua Eccellenza di poter far rimanere Don Rocco nella nostra comunità, che siamo un greggio di pecorelle smarrite. Sin da quando Don Rocco ha iniziato il suo percorso lavorativo qui in oratorio, da subito si è affidato a noi e ci ha inserito nel gruppo animatori. Noi abbiamo fatto di tutto per insegnare e far divertire i nostri ragazzi, perché avevamo una guida. Adesso questa guida non ce l'abbiamo più. Chiediamo con il cuore in mano di far rimanere qui Don Rocco. Grazie.